Si gioca in un sanzino gremito, speriamo che il match si riveli all'altezza. Vi parla Pierlu Gipardo, con me come sempre c'è Leli Adani per il commento tecnico. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. Importa Ciandanovic, difesa composta da Skrinian in coppia con De Vrij. Cialanoglu insieme a Brozovic nella zona centrale del campo. E davanti Romero Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Ecco la formazione titolare del Barça. Per Stegen tra i pari. Dietro a partono con Koundé, con Gerard Piquet. Franchile Young insieme a Sergio Buschezza a centrocampo. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. Squadra che debuttano ufficialmente dalla fase a gironi di questa UEFA Champions League. Sergio Buschezza. Servito Pedri. Occhio alla progressione. Ha evitato possibile gol. Balla interessante dello spazio. Attenzione al movimento di Lukaku. Ter Stegen la respinta. Palla ancora viva. Legge bene la situazione di conquista palla. Inter un passo dal vantaggio. Sembrava già tutto fatto per la rete dell'1-0. A rovinare i piani dei narazzurri. Ci ha pensato il portiere con un intervento incredibile. Non la tiene Andanovic. Attenzione. Si allunga Andanovic e la toglie dalla porta. L'appoggia al compagno vicino. Restritto qui il cross. C'è stata la deviazione. Sarà dunque corner. Sceglie il tocco contro. La mette in mezzo qui. Palla rubata in una zona pericolosa. La freschezza e il dinamismo di Barella possono essere chiavi importanti nel match. Si fa dare spesso palla in fase di impostazione. Detta i tempi della manovra. Accelera, decelera, dalle pause. Lo fa proprio piacimento. Attenzione a quest'occasione. Grande intervento di Andanovic. Riconquista il pallone. Pedri. Il tocco per De Vrij. La legge bene e intercetta. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversario. Attenzione a Lewandowski. Entrata con i tempi giusti questa. Sceglie la battuta corta. Anticipa tutti su questo cross e sparsa. Pallone buttato via. De Jong. Occhio a Dembélé. Pedri. Occhio a Lewandowski. Intervento decisivo questo. Occhio a Lewandowski. Tocco verticale interessante. La tiene bene De Pai. 1-0. Hanno capitalizzato il loro possesso palla. e la loro pressione con il gol del vantaggio. Per chi se lo fosse perso, ecco il play del gol. Si è fatto beffe del proprio marcatore Lewandowski nell'occasione. Ha scelto la potenza De Pai e non ha dato scampo al portiero. Contro che riparte, quelli dell'Azzurri che dovranno cercare almeno il pareggio. Sono sotto di un gol. Marcello Brozovic. Entra con decisione. De Pai. Buono qui il pressing, attenzione. Barcellona all'attacco. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Lewandowski va via la grande. Attenzione a Lewandowski. Grande intervento del portiere. Dembélé. Lewandowski cercato con questo lancio. Buona qui la lettura del difensore. Palla buttata via. L'ha letta bene il difensore. Occhio a Lewandowski. Marcello Brozovic. Gosens. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione. Bravo il portiere che smetta il pericolo. Corner importante. Potrebbero fare già riconti se lo sfruttano dovere. I tifosi capiscono il momento. E aumentano il numero dei decibel. Recuperano bene il possesso qui. Barella. Chalannoglu. Lukaku. Ha stregato l'occasione per i pari. La palla sembrava già in rete. E invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitante. Dato sul possesso palla che vede il Barca indietro. Era lecito attendersi di più da loro. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari. E poi sfruttare gli spazi di ripartenza. E fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri. Attenzione. Possono far gol qui eh. Andanovic. Dice di no. Palla messa dentro da Dembélé. Ballone che scotta. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Ha l'occasione per riaprire il match. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio quest'occasione da distanza ravvicinata Pierre. Ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Ecco De Jong. Controlla Sergio Busquets. Ancora poco da giocare in questa prima frazione con la squadra di casa a caccia del gol del pari. Sono ancora in partita Pierre. Non c'è dubbio. Un gol da recuperare non è nulla. Soprattutto con la squadra che si ritrovano. Per trovare il pareggio basta un episodio. La giocata è così. Incredibile. Traversa. Non è finita. Dembélé. Ecco la rete. Rivediamo il gol Pierre. Guarda la mette alle spalle del portiere con questa conclusione di testa. Bellissima. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2-0. Ci sarà un minuto da recuperare come indica il quarto vuoto. Sbagliato il possesso dell'Inter. Giordi Alba. Palla per De Jong. Attenzione a Buschez. Arriva il fischio dell'arbitro. Si chiude la prima frazione. Si riparte. Gara valevole per la prima giornata di Champions. Fionza. De Jong. Mette fino all'attacco e recupera il pallone. Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. Traversa. Palla ancora in gioco. Azione che finisce qui. Occhio al contropiede. Possono recriminare contro la cattiva sorte per l'occasione di poco fa. Il legno ha evitato un gol che sembrava già fatto. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Palla invitante. Attenzione. E c'è il gol che allarga ulteriormente il margine. Ecco il replay dell'azione che ha portato il gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo fraseggio prolungato. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere. L'ho fatto secco con un preciso tocco d'interno. Ora conducono per tre reti a zero. Marcello Brozovic. Dumfries. Occasione d'oro. Tirone spinto. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pier. e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Ecco De Jong. La ferma. Ronald Araujo. Lewandowski. Grande intervento. Quasi come un gol. A Can Saranoglu. Lautaro Martinez. Possibilità per Lautaro. Attenzione. Intervento fondamentale. Ha evitato che il pallone entrasse. Palla battuta troppo sul portiere. Non ha problemi. Lautaro Martinez. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Palla in rete. Ha battuto il portiere. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. A tu per tu quel numero un avversario è rimasto freddo. Ha preso la mira. Ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Quarto gol della gara che pissa sul 3 a 1 il punteggio. De Jong. Entra sulla palla e gliela porta via. Inarrestabile Lukaku. Occhio all'occasione per riaprire il match. Un altro gol. E adesso lo svantaggio è molto ridotto. Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Straordinaria la giocata con cui Lukaku si è liberato del proprio marcatore. Ci ha messo la sua firma pure Lukaku. Smarcato a tu per tu quel portiere. Si riprende con l'Inter che ha trovato il gol del meno uno. Adesso dovrà andare a caccia del pari. Lewandowski. La ciocca su Lewandowski. Prova ad attaccare il Barca nella metà campo avversario. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Nulla di pappo dunque. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Ha sprecato una grande occasione da pochi passi. E' uscito fuori un passaggio al portiere. Pedri. Palla nuovamente tra i loro piedi. Lancio con i giri giusti. Ronald Araujo. E lo ferma. Attenzione perché è solo. E c'è il gol che rimette le cose a posto. Erano sotto di tre reti. Hanno saputo reagire. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol. Tagliando in pure la difesa per questo lancio. Il trame. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura. e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Davvero un'impresa clamorosa. Sanno riusciti a trovare la verità. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Suggerimento interessante. Si avventa sul pallone. Attenzione da lì. Ter Stegen dice di no. Lewandowski. Occhio a Lewandowski. Buona lettura del difensore. Taglia nel mezzo. Capisce tutto Nevrai. Attenzione al Barca che prova a spingere in questo finale. Vuole vincere la partita. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Interessante la verticalizzazione qui. Può andare nello specchio. Ter Stegen la respinta. Palla ancora viva. Pulisce la tre quarti. Evitando guai peggiori. Forze fresche per il Barcellona. A metri per avanzare. Pallone di nuovo per il Barca. Mancherò cinque minuti alla fine della partita. Barca che avanza con il suo stile inconfondibile. Basato sul tic-tac. C'è una sostituzione nel Barca. Auvameian. Tackle bellissimo. Preciso, efficace. Parità assoluta. Caccia del gol che potrebbe dare loro la vittoria. E c'è il gol. Rimonta completata. Ora sono in vantaggio. Il Barca adesso potrà cambiare marcia se vuole recuperare lo svantaggio. L'arbitro concede due minuti di recupero. Hanno ancora un'occasione per rimettere a posto le cose. Devono sfruttare questo possesso. Manca poco. Pedri. Attenzione a Aubameyang. Conclusione che non ha preso il ciro a sperato. Aveva mirato il palo lungo. Se avesse centrato lo specchio probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League. E oggi l'hanno dimostrato. Sì. Sì. Grazie a tutti.